Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale oggi vi vedete con un trucco parziale perché ho solamente fatto la base sono cadaverica perché devo andare ancora a completare il trucco con le varie polveri viso non ho neanche truccato gli occhi e le labbra perché voglio provare due novità che nel panorama Luxury sono uscite ultimamente mi hanno colpita da subito, le volevo acquistare complice anche il buono compleanno e gli sconti vari sono riuscita a prendere questi due pezzi e sto parlando di un brand specifico ovvero Chanel non ho assolutamente saputo resistere a questo gioiellino edizione limitata che è la prima palette viso e occhi di Chanel infatti non ha il formato solito dei classici code ma è decisamente più grande e poi è uscita anche con una nuova linea di rossetti Rouge Allure Velvet anche di questi ne ho voluto acquistare uno per quanto riguarda il rossetto ve l'ho segnalato anche su Instagram il prezzo è andato veramente alle selle rispetto a sola quando l'ho acquistato io un mese, un mese e mezzo fa io l'avevo preso con un 30% di sconto su Douglas e l'avevo pagato mi sembra 29 euro qualcosa meno di 30 euro ma avevo un prezzo di partenza di 42 euro il prezzo adesso è aumentato di 10 euro circa perché costa sui 52 euro non so veramente come si è potuto aumentare addirittura di 10 euro in un solo mese in cui c'è stato un ulteriore rincaro di prezzi mi avete segnalato che anche altri prodotti che magari anche voi avete acquistato un mese fa adesso costano di più una cosa veramente pazzesca 50 euro per un rossetto è veramente tanto anche 42 non era poco infatti ho aspettato anche io comunque uno sconto però questo aumento di 10 euro mi ha lasciata un po' così detto questo perché era giusto secondo me anche segnalarlo speriamo che almeno sia un rossetto fantastico anche se 50 euro è sempre tanto invece appunto questa palette varia un po' il prezzo ho visto dagli 80 agli 88 euro e insomma valutate eventualmente se la puntate e dove vi può convenire di più rispetto agli sconti che avete io ho approfittato di 30 euro di buono per il compleanno sul sito di Sephora ma c'è anche su Pinalli, c'è su Douglas insomma valutate un po' e vedete se riuscite ad applicare qualche sconto perché comunque anche la Inun costa pochissimo è un'edizione limitata quindi ovviamente pensateci magari un attimo ma se poi proprio vi interessa acquistatela perché prima o poi le edizioni limitate di Chanel non si trovano più e c'è in due versioni una più chiara e una più scura io ho preso la più chiara la 957 Tendress perché ero andata in negozio da Sephora la commessa gentilmente me l'aveva fatta provare anche su metà viso entrambe e a me era piaciuto devo dire l'effetto delle polvere un po' su entrambi i lati del viso però così mi aveva colpito anche una volta arrivata a casa mi ero guardata un po' anche sotto le luci naturali mi aveva colpito proprio il lato della palette più chiara quindi adesso comunque la andiamo a mettere in azione insieme e vediamo bene come sarà allora ho fatto già appunto la base ho utilizzato come primer il Glowing Makeup Serum di Laneige insieme al fondotinta di Chanel che è uno dei miei fondi preferiti lo sapete purtroppo le scritte sono andate tutte via comunque quello della linea Le Beige nella tonalità B10 questo fondotinta è molto bello ma devo dire è cabinato con questo primer mi piace anche di più ma questo primer è portentoso io lo adoro ho utilizzato come correttore questo di Armani Power Fabric nella tonalità 2 sapete che ho ammasso in utilizzo da un 2-3 settimane quindi lo sto studiando e poi ho ancopacizzato comunque un po' il tutto perché sapete che io non posso non mettere anche la cipria perché comunque questo fondotinta ha un finish radioso luminoso che sulla mia pelle mi piace sempre smorzare un pochino e mi piace proprio questo effetto di leggera radiosità che rimane settato poi con la cipria so che a molte persone sembra un po' quasi sprecato utilizzare un fondo luminoso per poi smorzarlo con una cipria invece a me piace proprio questa cosa dell'andare a combinare un prodotto un po' più luminoso insieme a un prodotto come la cipria che va a opacizzare perché ottengo quella giusta via di mezzo tra un prodotto non opaco non troppo luminoso quella radiosità naturale però settata che non mi fa diventare una patatina fritta quindi io amo proprio questo tipo di effetto poi giustamente ognuno anche in base al proprio tipo di pelle preferisce utilizzare i prodotti come vuole io amo proprio questa accoppiata di fondo luminoso e cipria per andare proprio a bilanciare il tutto comunque tutto questo per dire che ho utilizzato la Dior Forever Cushion Powder nella tonalità fiera che è una cipria opacizzante buona, valida come vi ho detto altre volte se ne trovano di valida altrettanto a prezzi molto molto inferiori però questa è un gioiellino insomma nel mondo laxery basta non ho utilizzato altro perché adesso andiamo a utilizzare questa meraviglia almeno estetica che è la palette di Chanel per andare a completare il trucco viso e magari vediamo di realizzare un velocissimo look occhi molto soft io non l'ho presa questa palette pensandola ad utilizzare queste polveri sugli occhi perché non so non sono neanche tonalità che mi chiamano particolarmente per il trucco occhi poi sapete che la mia fissazione sono le polveri viso quindi io l'ho presa pensandola ad un utilizzo per il viso quindi come blush illuminante eventualmente anche come bronzer una cialda in questa versione più chiara l'estate scorsa mi sembra Chanel era uscito sempre in edizione limitata con questo bronzer le beige l'oversize selfie glow sun kiss powder che io ho preso nella tonalità medium di questo ancora non ho buttato la scatola prima o poi le butto tutte ma per alcune insomma per giverso un po' aspetto un attimo prima di buttarle perché sono di bei prodotti allora vedete che praticamente probabilmente è identico il formato se vi può interessare se per caso avete il bronzer di Chanel è quasi leggermente più largo il bronzer vorrei dire una stupidata però forse sì no o identico no sono identici mi sembra che il formato sia proprio lo stesso del bronzer quindi è la stessa dimensione questo bronzer è uno spettacolo oggi non penso di andare a utilizzarlo è bellissimo però non penso di utilizzarlo perché appunto la palette di Chanel nella versione più chiara è questa bellissima palette di polveri cotte vedete che ha questa cialda che penso nasca come blush ma per una carnagione chiara secondo me e avendola provata un pochino velocemente anche da Sephora potrebbe andare bene anche come bronzer vediamo la proviamo come bronzer oggi anche perché come blush non è una tonalità che solitamente prediligo queste invece sono proprio due tonalità da blush e questo che mi sembra un bellissimo illuminante di una tonalità rosa pesca e questa secondo me è anche la cialda che io vedo anche più funzionale eventualmente per i miei gusti anche per un veloce lucocchi se voglio mettere giusto un ombretto un pochino più luminoso sulla palpebra e bassa magari oggi facciamo così vediamo allora iniziamo dal bronzer pennello di Charlotte Tilbury o almeno vediamo se funziona ripeto bene come bronzer ovviamente da Chanel mi aspetto eleganza quindi quando si parla di Dior Chanel un po' anche come la palette Dior Backstage che abbiamo utilizzato nell'ultimo Get Ready With Me sapevo acquistandola che non sarebbe stata una palette ultra luminosa con shimmer sconvolgenti perché questi sono brand che nascono così proprio per ricreare trucchi molto delicati leggeri per chi non ama nulla di esagerato allora devo dire che sicuramente bisogna prestare un pochino la cialda per ottenere un rilascio di colore un pochino più evidente perché vedete che altrimenti rimane molto delicato allora sicuramente questa è una cialda da una tonalità chiara non nasce come bronzer lo stiamo facendo funzionare come bronzer e sicuramente devo andarci con un po' di insistenza per ottenere un effetto visibile per quanto comunque sempre molto naturale perché vedete che è naturalissimo questo è un prodotto che è perfetto per chi magari non ama moltissimo il bronzer o vuole ricreare proprio un make up non make up molto naturale dove non si noti troppo che qualcuno una persona sia truccata insomma con una polvere che si fonde con la pelle in una maniera pazzesca la sfumabilità dire che è estrema è dire poco e riesce comunque non so se si può notare con questo effetto così naturale però a scolpire secondo me bene i tratti del viso a dare comunque un aspetto più bello però con una polvere che non so non si nota veramente a livello sia proprio di texture è invisibile è veramente invisibile e anche la tonalità è appunto chiara e questo colore non ingrigisce assolutamente non è una cialda che adesso stiamo facendo funzionare come bronzer che definirai proprio fredda però sicuramente non è neanche un bronzer che andrei o comunque una cialda che andrei a utilizzare per ottenere un bel effetto scaldato come ad esempio mi piace in estate questo è un effetto che a me piace tantissimo ad esempio in inverno dove caricare col bronzer come faccio di più adesso con la bella stagione anche perché non mi abbronzo particolarmente quindi mi piace dare quel tocco di calore in più con il bronzer invece autunno in inverno e secondo me questa palette è molto autunnale invernale come tonalità questo è l'effetto che mi piace tantissimo perché altrimenti mi sembra molto finto in inverno sono al massimo del mio pallore e questo è un effetto veramente bellissimo naturale da tutti i giorni però ovviamente vi deve piacere questo effetto molto naturale dovete avere comunque una carnagione chiara questa cialda già su una carnagione media secondo me non funziona però io penso che il prima e il dopo si possa notare ma guardate la bellezza poi ha dato questo aspetto leggermente radioso ma naturalissimo un radioso non dato dalla presenza di brillantini di una perla di niente ha dato proprio questo aspetto più bello e scolpito al viso non scalda però non so l'aspetto è più bello ovviamente se voglio una terra per andare a scaldare utilizzerai il bronzer padellone però ovviamente come dicevo bisogna essere chiari di carnagione per questa palette in particolare per questa cialda non scocciarsi perché bisogna andare a fare un po' di passate prelevare un po' il prodotto con insistenza se vogliamo un po' ricordano quelle palette come l'ultima di Charlotte Tilbury o quella di Nars che sono polvere che bisogna andare a prendere col pennello giusto prelevare con un pochino più di insistenza per avere un rilascio di colore un pochino più visibile ma nascono proprio nell'ottica di un qualcosa di molto naturale leggero ed elegante e secondo me questa cialda utilizzata come terra su una carnagione chiara molto chiara regala questo bellissimo effetto elegante di make up vedo non vedo mi piace tantissimo pensandola ripeto proprio anche nei mesi invernali quando mi piace qualcosa di molto delicato e non voglio che si noti troppo il bronzer e non mi piace andare a caricarlo io inizierei da lui che è appunto questo colore un po' più vorresti capire se vira quasi sul rosa pesca ma vediamo un attimo sulle sulle guance poi soprattutto le prime passate secondo me sono quelle meno cariche poi pian pianino si riesce a ottenere anche un pigmento un pochino più presente questo comunque la bellezza della polvere a me aveva sconvolto non so se riesco a far percepire la meraviglia di queste polveri a livello proprio di invisibilità sulla pelle non c'è proprio è come mettere un prodotto in crema ma questo è lo stesso effetto che si ottiene un po' con le palette di Charlotte Tilbury o di Nars le ultime per quello dico se avete già preso quelle non vi piace quel genere di effetto di polvere di prodotto questa secondo me non fa per voi se amate molto quelle probabilmente anche questo tipo di polveri vi potrà piacere tantissimo comunque il blush no si carica molto di più rispetto alla terra è molto più pigmentato decisamente anzi direi che così è già bello visibile dal vivo poi in un video si smorta sempre un pochino il blush quindi tendo poi per questo sempre a caricarlo anche di più ma dal vivo è stupendo è un colore che ha qualcosa di non lo so come un pesca con del rosso all'interno una puntina calda è particolarissimo è una tonalità di blush molto particolare e secondo me ripeto sì anche per quanto riguarda questo blush tonalità che prediligerai in particolare in autunno e inverno bellissimo la blush è stupendo se polveri le applicate anche senza guardarvi allo specchio con questa se vi truccate al mattino in super velocità non volete rischiare un effetto troppo carico non volete stargli a pensare a quanto prodotto state mettendo è difficile veramente sbagliare anche se il blush è decisamente più pigmentato decisamente più pigmentato dell'altra cialda che comunque effettivamente è un colore chiaro anche se adesso se mi guardo effettivamente si nota anche l'effetto della terra diciamo l'abbiamo utilizzata così no è stupendo questo blush poi dà questo effetto radioso questa era la cosa che mi aveva proprio colpito in negozio un effetto radioso ma ripeto non sono polveri luminose non ci sono glitter brillantini nulla però danno un effetto fresco bello polposo radioso alla pelle che mi piace da matti e infatti quello mi avevo proprio convinto ad acquistarle visto il prezzo ho proprio chiesto alla ragata se poteva un attimo farmele provare gentilmente ha consentito no che bello ma che effetto elegante stupendo e andiamo a mettere anche un tocco del blush più scuro che sembra proprio un berry questo si fa virare un pochino il blush su una tonalità un po' più berry rossiccia questo è un colore bello anche in estate uh bellissimo sono di una facilità di utilizzo queste polveri estrema poi considerate no vabbè i blush sono pigmentati ottenete l'effetto anche bello carico intenso però avendo questa formula di rilascio colore graduale potete ovviamente ottenere l'effetto desiderato e gestirle benissimo perché non avrete mai da subito l'effetto super carico del blush poi considerate che oggi sto utilizzando anche un pennello dalle setole molto morbide un po' aperte si aprono un pochino quindi non preleva in maniera particolarmente carica di polvere le setole se utilizzate un pennello a setole più dense preleva ancora di più con più pigmento ma ma che bello anche questo colore davanti un po' delle tonalità rossicce è stupendo anzi con questo ci vado piano perché è bello carico e infatti avevo visto che le tonalità della palette più scura per il blush per me erano fin troppo intense e direi che ho fatto benissimo perché già queste riesco a renderle belle visibili sul mio incarnato ma che meraviglia sì diciamo che appunto l'effetto della terra di questa cialda è quello che rimane molto molto più discreto e più da stratificare proprio perché il colore è molto molto chiaro ecco però in realtà sono polveri che modulando hanno assolutamente pigmentazione poi no i blush sono qualcosa di strepitoso utilizziamo anche l'illuminante oggi sto usando i due pennelli di Charlotte Tilbury e invece questo che ho utilizzato fino adesso è di Morphe le quattro perché mi faccio da matti per il blush beh ci manca solamente questo bellissimo illuminante che a vederlo così e a sbocciarlo sembrava proprio il genere di illuminante che io amo no vabbè un tutt'uno con la pelle è proprio quell'effetto specchiato ma che meraviglia e questo da subito con la prima passata guardate che bell'effetto che per me per tutti i giorni è già più che sufficiente no è stupendo stupendo no vabbè l'illuminante è stratosferico anche bellissimo poi la tonalità so sì ma ha dei riflessi rosati molto chiari quindi perfetto per carnagione chiara non è una striscia di glitter è fatto specchiato si fonde con la pelle è sottilissimo è meraviglioso non texturizza particolarmente per essere un illuminante però è più luminoso poi di quello che mi sarei anche aspettata da questo illuminante da Chanel perché comunque vedete che bello effetto no è pazzesco l'illuminante è pazzesco i blush pazzeschi la terra è la cialda diciamo che risulta veramente più delicata meno scrivente più da stratificare perché in realtà è un blush molto chiaro volendo se vi piacciono queste tonalità potete utilizzarlo anche come blush a me in realtà piace tantissimo utilizzato proprio come terra per andare a scolpire un pochino perché guardate che bello effetto naturale ma definito che ha donato no stupendo stupendo ok mi piace date però vi devo dire che questo colore sugli occhi mi piace tantissimo è soft però se voglio un trucco delicato veloce rapido non mi dispiace affatto anche un ombretto eventualmente così prendo questa cialda e la sfumo un po' nella piega diciamo che sono un po' più i miei colori perché sono sì su rosa pesca questo colore forse anche un appunto un po' più calda rispetto all'illuminante però insomma si sposano bene come tonalità è veramente super soft questo look occhi però vi devo dire che nella sua eleganza mi piace perché come vi ho detto sono entrata un po' anche nel mood di questi look molto molto soft anche per quanto riguarda gli occhi per tutti i giorni quindi comunque non mi dispiace le tonalità sono carine poi sapete che io amo i colori chiari sugli occhi quindi se fossi di fretta e comunque volessi un veloce look occhi questo per me andrebbe benissimo ma io sono veramente soddisfatta devo dirvi la verità per i miei gusti è stupenda tanto che a questo punto spero che Chanel ne faccia altre anche con altre tonalità perché l'idea di palette viso e occhi mi piace tantissimo vado a mettere il mascara dalla fine ho utilizzato il Gucci mascara l'obscur in questa piccolissima taglia che mi durerà ben poco e invece io sono follemente innamorata di questo mascara perché mi fa delle ciglia pazzesche insieme al Lash Clash di YSL penso che sia diventato il mio mascara laxery preferito in assoluto sapete che mi scorcia sempre un po' a spendere cifre importanti per il mascara perché ci sono mascare economici che comunque mi fa un effetto stratosferico però questo lo terrei presente nel panorama laxery ecco l'effetto è di pelle proprio fresca non so mi dà proprio un'idea di pelle fresca ripeto radiosa quasi quell'effetto di pelle più giovane sapete che a volte vi dico che anche mettendo certi fondotinta mi vedo peggio che al naturale perché secondo me il fondotinta e alcuni trucchi possono appesantire addirittura donare degli anni invece ci sono quei make up freschi che vanno ad alleggerire a rendere quasi più giovani e questo è uno di quei casi mi vedo proprio la pelle fresca quindi bello mi piace tantissimo l'effetto quindi terminiamo con il rossetto nella tonalità 64 il rossetto si presenta così sempre nero chanel e bisogna schiacciare qui c'è il logo molto elegante questo è il mio secondo rossetto chanel perché ho anche il famosissimo adrienne che è un nude pazzesco uno dei miei rossetti nude preferiti quello più nude però beige anche se non esageratamente poi bilanciato con una matita più rosata mi piace da matti qui invece sono andata proprio su un colore un po' più rosato un rosa intenso sembra comunque vediamolo adesso sulle labbra vi faccio anche lo swatch così lo vedete anche dallo swatch perché poi magari dalle labbra può da labbra a labbra può variare in base alla pigmentazione il colore è bellissimo molto nelle mie corde che bello è più acceso e vivace forse di quello che mi sarei aspettata quindi anche meglio ecco il risultato finale la tonalità del rossetto è più bella di quello che pensavo perché vedendo alcuni swatch e alcuni video temevo che fosse anche un po' caldo come colore invece c'è un bellissimo rosa intenso con una punta quasi di ciclamino viola bellissima veramente la punta di colore è pazzesca allora la formula è di un rossetto cremoso morbidissimo quasi oleoso da quanto è morbido è proprio sì il rossetto perfetto questo se avete le labbra estremamente di solito secche o amate proprio i rossetti cremosi che sembrano quasi come sensorialità un balsamo labbra però ovviamente sono dei rossetti perché hanno il pigmento di un rossetto resta però morbidissimo non mi dà l'idea di quel rossetto cremoso che si aggrappa molto proprio per questa sua quasi questa sua morbidezza oleosa quindi mi dà l'idea di un rossetto che tende ad andare via un po' prima probabilmente di altri rossetti cremosi però è bellissimo è veramente ultra confortevole il colore resta comunque pieno è stupendo però vi deve piacere la formula non è estremamente lucido però proprio sulle labbra lo sentite quasi come come un olio che è morbidissimo è un qualcosa di estremamente piacevole questo look alla fine è molto molto semplice però fresco anche con questo rossetto gli abbiamo dato un tocco anche un po' primaverile anche se la palette come toni prettamente secondo me è più autunnale invernale proprio per soprattutto il tono di questo blush che uso come terra e che per me è il colore perfetto quando sono chiare voglio un effetto molto delicato naturale definito un po' più scolpito del viso così è bellissimo questi due blush in particolare questo lo vedo molto più autunnale questo ha una punta un po' più rossiccia che lo rende bello anche in estate per i miei gusti l'illuminante insomma un po' tutto l'anno è bellissima questa tonalità di rosa chiarissima che va bene per una carnagione chiara però visto proprio soprattutto anche questa cialda e l'illuminante chiaro è una palette che io vedo molto bene su carnagioni molto chiare o chiare non di più a parte i blush che sicuramente costruendoli si possono notare anche su una carnagione che vira più al medio però queste due cialde non funzionerebbero secondo me se una carnagione media è già light medium però queste due a fatica queste sì però insomma anche utilizzare solo due cialde su quattro per una palette che costa così tanto secondo me non è il caso da una tonalità light medium in su di carnagione io mi rivolgerei a quella più scura invece ripeto per carnagioni chiare molto chiare questa è stupenda dà un effetto bellissimo io termino veramente molto contenta quindi sì io riacquisterei questi prodotti al volo e anzi tanto mi piace questa palette che io ne vorrei anche altre in altre versioni termino qui io spero che il video vi abbia fatto compagnia nel caso vi sia stato utile fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questi prodotti se avete provato qualcosa poi ovviamente parliamo di un prodotto laxery quindi il discorso si può trovare prodotti che funzionano bene a meno assolutamente sì quello ve lo ripeto sempre però sapete che io amo anche laxery quindi qua vi sto recensendo dei prodotti di una fascia di prezzo laxery e per me anche se comunque costosi e probabilmente nulla giustifica dei prezzi così elevati non vi posso non dire che la qualità c'è tutta e mi piacciono veramente tantissimo quindi niente io vi saluto vi mando un bacione grandissimo alla prossima ciao ciao